Buongiorno a tutti, siamo qua a Piazza Municipio a Napoli e noi siamo Magna Grecia. Veniamo da Reggio Calabria, provincia, Grotteria Mare e questa è la nostra produzione artigianale di cioccolato. Cominciamo dalla nostra frutta candita, le nostre scorse di arancia, limone e cedro, ricoperte di cioccolato al fondente del 75%. Poi ci sta il senza zucchero, per chi non può avere tutti questi zuccheri mai a voglia di cioccolato va sul senza zucchero, 100%, un Uganda al 90% e non poteva mancare il nostro peperoncino all'80%. Poi ci sono vari croccanti come il nocciolato bianco, il nocciolato al latte e il nocciolato fondente. Abbiamo vari gusti, abbiamo il croccante di mandorla, pistacchio e miele che è il nostro cavallo di battaglia, latte, fondente bianco e ci sta anche caramello salato. Poi andiamo sui tartufi, che c'è una vasta gamma di gusti per tutti i palati, delizia al caffè, pistacchio bianco, baylis, cocco fondente, pan di stelle, nutellino. Ci siamo un po' sbizzarriti con i gusti, quindi ce n'è per tutti i palati e per tutti, sia per grandi che per piccoli. Abbiamo anche le nostre tavolette già confezionate, sia al latte fondente che bianco, sempre dal nostro laboratorio. Poi ricominciamo con una vasta gamma di tartufi con un misto di gusti, sempre nutellino, pistacchio, nocciola, tiramisù, caramello. Abbiamo anche rum ovviamente e sempre dolce e piccante. Essendo che siamo calabresi andiamo sul piccante sempre. E poi a finire andiamo sui cremini. Anche qua una vasta gamma di gusti. Dal pistacchioso, kinder al latte, al bueno, a pistacchio al latte, delizia dell'ettina, molto buono. Ovviamente non poteva mancare il classico, è sempre il classico, il primo in assoluto. E poi sempre una vasta gamma, sempre qua di vari gusti, per tutti quanti. Abbiamo anche le nostre scatoline da comporre. Abbiamo la piccola scatolina, questa è la prima, che si possono mischiare qualsiasi cosa, sia dei cremini che dei tartufi. Si può fare una bellissima scatolina, regalo. Abbiamo di tutte le misure, sia piccole, medie che grandi. Vi aspettiamo numerosi in piazza Municipio. Siamo qua a far assaggiare le nostre delizie. Ci troverete qua ad aspettare voi. Grazie mille.